Allora, il MESA anzitutto non è soltanto il Fondo Salva Stati, ma si tratta di un'organizzazione intergovernativa con chiare tendenze finanziarie e privatistiche a cui le istituzioni vogliono attribuire il compito di gestire quella dotazione di denaro che teoricamente dovrebbe servire per aiutare gli stati in difficoltà dal punto di vista finanziario. La verità è che questa organizzazione sarà gestita da persone che godranno di immunità giudiziaria, di immunità di giurisdizione e di inviolabilità dei documenti. E se ci pensate benissimo è un grande paradosso, poiché le due grandi problematiche da mettere in campo per risolvere la crisi e per uscirne sono la speculazione finanziaria, indiscussa protagonista della crisi di mercato, e la corruzione politica. Anzitutto vi do un piccolissimo passaggio tecnico, ma dunque per essere precise, cioè che nel trattato in realtà poi si discute del fatto che vi possano essere delle situazioni in cui l'organizzazione stessa rinunci a questa immunità, delle inviolabilità, poi dipende tutto dall'organizzazione, ma non cambia la sostanza dei fatti, nel senso che alla fine non saremo noi, cioè non saranno delle istituzioni democratiche, non sarà quel popolo sovrano sancito dalla nostra Costituzione a controllare coloro che gestiranno il fondo, perché attenzione, gestire il fondo significa gestire il destino del debito pubblico e conseguentemente delle linee di politica economica dei vari Stati membri, tant'è che le condizioni per l'accesso al credito da parte dello Stato in difficoltà che decide di far ricorso al MES, perché lo Stato da un lato partecipa come socio, sono 17 Stati che partecipano non in qualità di istituzione sovrana ma soci, ciò significa che il potere di uno Stato nell'ambito dell'organizzazione che gestirà questi 700 miliardi di euro iniziali sarà misurato sulla base delle effettive capacità di natura finanziaria. Dall'altra parte poi uno Stato in difficoltà come potrebbe essere sicuramente l'Italia può anche decidere di chiedere un prestito alla stessa organizzazione di cui è socio. Alla quale partecipiamo con una percentuale del 17, qualcosa per cento, per un totale di 125 miliardi, dei quali, notizia sui giornali, si stanno accordando perché noi anticipiamo almeno 15 miliardi da pagare nei primi tre anni. Il punto qual è infatti? Che è prevista la corrisponzione delle prime rate, che non sono misurate e badate bene sui 700 miliardi e dunque sui 125 miliardi per l'Italia, ma su quella parte di quota inizialmente da versare, che è nel complesso 80 miliardi. Ecco perché poi attualmente si parla di rate notevolmente inferiori rispetto ai 125 miliardi. Ma una domanda importante che i politici dovrebbero porsi e poi successivamente dare delle risposte ai cittadini, dove prendiamo questi circa 5 miliardi iniziali? Dalle tasche dei cittadini? Non soltanto, ma riprenderemo a debito. Dunque noi parteciperemo al capitale del MES a debito e pagheremo degli interessi. Probabilmente queste quote saranno finanziate mediante l'emissione ancora di titoli pubblici. Quindi è per questo che andremo a pagare altri interessi. Ma alla fine attenzione che nell'ipotesi in cui uno Stato decide di far ricorso al MES per ottenere un prestito, cosa dovrà dare in cambio questo Stato per ottenere del denaro? Allora nel trattato c'è scritto che nel caso in cui il MES decide di non finanziare lo Stato, ma nel caso in cui si decide di finanziarlo, dovranno essere imposte allo Stato debitore delle rigorose condizionalità. È chiaro che la prima cosa che ci si dovrebbe chiedere in Parlamento prima di concedere eventualmente la ratifica è ma quali sono queste rigorose condizionalità a cui dobbiamo attenzione? Non si sa, però leggendo la prima versione del trattato, perché le versioni sono due, quella firmata dal Ministro dell'Economia Giulio Tremonti il 2 luglio, è quella l'11 luglio, scusate, è quella poi firmata il 2 febbraio, da altri rappresentanti istituzionali. Nella prima versione c'era un diretto riferimento alla politica economica, cioè la possibilità da parte di un'organizzazione, ripeto, intergovernativa, che godrà di immunità, di violabita e documenti, di poter imporre allo Stato in difficoltà delle condizioni di politica economica, che chiaramente si tradurranno anche scelte riguardanti lo Stato sociale. Quindi, ma a qualsiasi sia il livello di bisogno di uno Stato, mai noi dovremmo cedere alla nostra sovranità ad un'organizzazione finanziaria, ben sapendo che la causa della crisi è la speculazione, quella dei poteri forti e anche quella delle banche. Dunque questa scelta sarebbe da scartare già adesso. Fate attenzione al passaggio del versamento delle quote, perché c'è scritto nel trattato che queste devono essere versate irrevocabilmente ed incondizionatamente. Che significa irrevocabilmente ed incondizionatamente? Questo, così come il primo passaggio, dovrebbero spiegarcelo i nostri parlamentari, perché in aula si dovrebbe discutere di questo. Ma se andate a vedere i documenti ufficiali, attualmente disponibili online nel sito senato.it e parlamento.it, vedete che non c'è alcun riferimento a tali questioni. L'unica cosa di cui si discute è sostanzialmente dove e come andare a prendere i soldi da versare per le prime quote. Anzitutto io reputo il linguaggio violento, virgolettato, fammelo passare, perché incondizionatamente ed irrevocabilmente è una cosa che è un linguaggio che non si deve utilizzare in un sistema democratico. Significa, spieghiamolo per chi guarda, che nel momento in cui aderiamo e ratifichiamo questo trattato, tutte le cifre che il MES ci chiederà a nome di questi 17 governatori, se vorranno aumentare i fondi e i capitali disponibili, eccetera, eccetera, dovremo versarle e non potremo in alcun modo rifiutarci. Se domani questi 17 supergovernatori dovessero decidere di aumentare i fondi a 1.500 miliardi, noi per la nostra quota a parte dovremmo immediatamente, o comunque nei tempi e nei modi, perché c'è scritto anche questo, che decideranno loro, versare questi soldi. Cioè ci stiamo praticamente, uno almeno quando fa un finanziamento c'è scritto che pagherà un tot di rate, c'è scritto quando le pagherà. Qui non c'è scritto quante rate saranno, per quanto tempo e non c'è neanche una maniera per uscirne. Sì, infatti io voglio lanciare una provocazione. Nell'ipotesi in cui l'Italia non riuscisse a versare la propria quota o di capitale, in questo caso di capitale o anche di debito, però di debito in realtà le condizioni dovrebbero essere teoricamente più leggere, ma nell'ipotesi in cui noi non riuscissimo a versare, come italiani, queste quote, cosa dovrebbero farci? Non le versiamo, punto. Decidiamo di uscire dall'ESMO e non versiamo le quote, quindi? Non lo so, dimmi lo tu. Non lo so, dovrebbero dirci i nostri parlamentari. Il solito problema delle condizioni di uscita che non sono specificate. Sì, ma infatti per questo dico che il trattato lascia carta bianca ai grandi finanziatori, perché attenzione, è chiaro che una dotazione di 700 miliardi di euro, di cui 500 prestabili, non sono sufficienti per far fronte alle richieste dei paesi europei che sono più in difficoltà. Infatti, un altro passaggio fondamentale, ma sotto altri punti di vista pericoloso del MES, è che l'organizzazione potrà fare ricorso al mercato finanziario esterno per poter avere quella dotazione al fine di attuare i piani di finanziamento nei confronti degli stati. Ciò significa che, per esempio, grandi potenze, per esempio la Cina, così come anche le banche, potranno partecipare ai piani di finanziamento per la concessione agli stati in difficoltà. E c'è scritto anche nel trattato che coloro che parteciperanno al piano di finanziamento potranno partecipare in qualità di osservatori alle riunioni in cui, badate bene, si stabiliranno le condizioni che lo Stato dovrà rispettare per poter ottenere i soldi. Quindi, ricapitoliamo, c'è questa crisi mondiale, ma di cui soprattutto ne stanno facendo le spese i famosi PIGS, l'Europa del Sud, tra cui noi, e per risolverla, siccome uscire dall'euro dicono che ci costerebbe troppo, ci stanno indebitando mani e piedi come dei capretti nei confronti della grande speculazione delle banche, dei finanzieri, che avranno la sovranità, in poche parole, perché si tratta di questo, di svendere la propria sovranità. Cioè, siccome costerebbe troppo a livello di inflazione, a livello di svalutazione, uscire dall'euro, comunque identificare un'altra soluzione a questo problema della crisi, allora svendiamoci anima e corpo a queste grandi organizzazioni che potranno fare quello che vogliono, entrare in Parlamento, controllare e verificare se facciamo i compiti per tutta la vita. Non mi sembra un gran guadagno come soluzione? Ma assolutamente no, non è sicuramente un guadagno nei confronti di uno Stato democratico e dei suoi cittadini, questo è scontato. E voglio fare anche una piccola riflessione, sia sul problema dell'uscita o non uscita dall'euro, che sull'applicazione di una politica di matrice chienesiana. Anche perché questi sono due argomenti molto trattati anche in rete. Dal punto di vista dell'uscita o non uscita dall'euro, io oggi non voglio dare quello che è il mio parere. Quello che posso dire è che se le condizioni speculative vengono mantenute in questo modo, se la corruzione politica continua a dilagare, soprattutto per quanto riguarda la gestione del bene pubblico, uscita o non uscita dall'euro, noi siamo comunque nei guai. Quindi il nostro grande problema è togliere dalle mani di questa gentaglia il nostro futuro e le decisioni sulla nostra economia. Perché nel momento in cui noi, tramite tutte queste aggressioni, siamo come paese privi di economia reale, qualsiasi soluzione di natura finanziaria non è idonea a far uscire dalla crisi. Ed è per questo che infatti anche negli Stati Uniti ci si sta ponendo il problema che liquidità non significa necessariamente crescita. Cioè quella idea chienesiana di, secondo cui in un periodo di crisi occorre rilanciare gli investimenti per attuare anche un incremento dell'occupazione, diciamo non ha avuto i risultati sperati. Quindi un tot di liquidità ha prodotto un risultato in termini di economia reale minimo rispetto all'investimento effettuato e comunque sia ciò si è tradotto anche negli Stati Uniti in un aumento del debito pubblico. Tant'è che anche negli Stati Uniti si inizia a parlare di austerity. Allora qual è quel problema comune che mette insieme la crisi europea con quella degli Stati Uniti che non può essere risolta con l'idea politica di Keynes? Ritorniamo al punto di partenza. Se la politica non individua le cause della crisi e realizza delle barriere protettive in favore dell'economia reale e dello Stato democratico qualsiasi altra soluzione di natura finanziaria, monetaria, fiscale eccetera non si farà chiaramente uscire dalla crisi. Perché la speculazione, la grande speculazione, fa grande incetta di capitali che sono capitali reali ma che restano in qualche modo virtuali finché non si traducono in diritto di prelazione sull'economia reale e poi quando è il momento cerca di acquistarsi i beni fisici delle persone, le aziende eccetera eccetera. Infatti c'è un altro passaggio che dobbiamo bene mettere in evidenza che è il lancio del nuovo piano Marshall a livello europeo e cioè un investimento di circa 200 miliardi in infrastrutture. Il problema è sempre come si tenta di risolvere i problemi. Non è tanto l'obiettivo rilanciare gli investimenti, è chiaro che dobbiamo farlo. Ridurre il debito pubblico è chiaro che dobbiamo farlo. Il problema è in favore di chi devono andare gli investimenti e chi deve pagare il debito pubblico. È chiaro che l'attuale politica è orientata a far pagare il debito pubblico ai cittadini piuttosto a chi ha generato la crisi. Per quanto riguarda il piano Marshall e l'investimento di 200 miliardi è previsto che siano tre strumenti da mettere in campo per investire questi 200 miliardi. È il Fondo Salva Stati di cui abbiamo parlato. Fondo Salva Stati in realtà loro fanno riferimento a quello precedente, a quello momentaneo ma è chiaro che poi si andrà a quello... L'EFSF. Esatto. I Project Bond e gli Euro Bond. Tralasciamo in questo momento gli altri due strumenti anche perché vorrei capire meglio verso quale direzione andranno. Però parliamo del Fondo Salva Stati. In che modo può intervenire il Fondo Salva Stati negli investimenti di una nazione? E' chiaro che la nazione per poter accedere al Fondo deve chiedere un prestito quindi in ogni caso anche questo nuovo piano Marshall sarà probabilmente a debito. E l'aspetto preoccupante del MES, con questo voglio chiudere questo intervento, è che nel momento in cui il MES godrà di inviolabilità dei documenti e i soggetti che lo gestiranno godranno di immunità di giurisdizione è considerato che nei piani di finanziamento il MES potrà anche fare ricorso al mercato finanziario esterno. Chi ci garantisce che noi non corriamo il rischio di una grande operazione di riciclaggio di denaro sporco? Cioè chi ci garantisce che non siano i soldi nelle criminalità organizzate quando la gestione del Fondo non va dal lato della trasparenza bensì da quello del totale oscuramento del controllo democratico sull'utilizzo dei fondi? È una risposta che dovrebbe dare la politica. Esatto, io posso fare solo domande chiaramente, ma queste risposte dovrebbero dare la politica. Però è chiaro che gli strumenti messi in campo in questo modo, anche perché considerate che nel momento in cui lo Stato non è in grado di pagare la propria rata che può essere anticipata dal Consiglio dei Governatori oppure non riesce nemmeno a restituire le rate del prestito, viene tolto il diritto al voto. Quindi noi praticamente abbiamo finanziarizzato il nostro sistema democratico ed è inutile che i politici portino avanti l'altisonante dibattito su più o meno Europa. Qua stiamo scendo fuori dai canali istituzionali e loro questo lo sanno.